Abbiamo iniziato a parlare da un po' di Leibniz, pensatore tedesco molto importante, vissuto a cavallo tra 600 e 700 e proprio la volta scorsa abbiamo visto come intende porre le varie questioni metafisiche della sua filosofia a questo pensatore, perché abbiamo parlato dell'ordine, un ordine però, abbiamo detto, contingente, un ordine molto diverso da quello a cui di solito si pensa. Oggi riprendiamo il discorso e vediamo come questa distinzione tra contingenze e necessità torna anche dopo, torna anche non solo quando dobbiamo pensare a come risporre i punti su un foglio, vi ricordate l'esempio della volta scorsa, ma anche quando dobbiamo parlare di verità, di proposizioni, di frasi, perché vedremo che in logica e nell'esperienza sensibile, nell'esperienza fisica, questi discorsi tornano di nuovo in campo e vedremo che ci sono principi diversi, principi di identità di non contraddizione da un lato, principio di ragione sufficiente dall'altro. Oggi iniziamo a vedere ovviamente tutto questo con calma, con tutte le spiegazioni del caso, cominciando come sempre subito dopo la sigla. Dentro alla filosofia, un podcast di Ermanno Scripp Ferretti, 256esima puntata. Le verità di ragione e le verità di fatto per Leibniz. Eccoci qui, eccoci di nuovo insieme, ben trovati, siamo su queste frequenze, onde, come volete chiamarle, per circa 20 minuti per parlare di filosofia e in particolare del pensiero di Gottfried Wilhelm Leibniz. Abbiamo già iniziato a conoscerlo da un paio di puntate, però ci tiriamo in ballo discorsi importanti che fanno il paio con quelli che abbiamo iniziato a vedere la volta scorsa. Se vi ricordate, giusto per riprendere un po' il filo, abbiamo discusso sull'ordine del mondo. Leibniz è convinto, come gli scienziati del tempo, che esiste in effetti un ordine nel mondo, una serie di leggi che spiegano la regolarità di quello che avviene, in fisica, in chimica, eccetera, ma ritiene che quest'ordine, contrariamente a quello che pensano molti, non sia necessario ma contingente. Cosa intende dire? Significa che secondo lui quest'ordine, certo c'è, è presente, ma potrebbe anche essere diverso da come è. Facciamo un esempio concreto. L'universo è regolato dalla forza di gravità appena formalizzata da Newton pochi anni prima rispetto a quando Leibniz scrive. Bene, benissimo, esiste questa forza di gravità che si esprime tramite una formula f uguale g grande per m1 per m2 fratto d al quadrato. Bene, ma un mondo in cui quella formula fosse stata diversa, magari diversa alla costante o magari diverso, che so, il denominatore, eccetera, sarebbe stato un mondo diverso ma non per questo meno ordinato di quello in cui viviamo. L'ordine si può presentare in molti modi in fondo, no? Non c'è un solo modo perché il mondo sia ordinato. Ce ne sono tanti, tanti innumerevoli potremmo anzi dire, no? Il mondo è contingente, fatto in un modo poteva benissimo essere fatto anche in un altro, ma ciò non toglie che sia in ordine. Di solito in filosofia si tendeva a legare la contingenza al caso e invece la necessità all'ordine, no? più un ordine è appunto necessario, cioè avviene in un solo modo più ordinato, più invece è contingente, cioè si dà in molte possibilità più sembra essere casuale. In realtà questa è un'apparente distonia. Perché? Perché è vero che quando c'è la necessità come in matematica tutto fila, liscio, ordinatissimo e preciso, ma non è detto che anche quando ci siano più possibilità non ci sia anche lì un ordine. La fisica ne è un esempio, la fisica avviene in un modo funziona in un modo, ma anche funzionarsi in modo diverso, sempre fisica sarebbe, sempre un ordine esprimerebbe. Allora dobbiamo imparare a distinguere, ritiene Leibniz, tra necessità e ordine. Non sono sinonimi, non sono neppure strettamente legati come di solito si pensa. E da dove nasce questo errore? Ecco, Leibniz prova ad approfondire e si rende conto che in fondo questo errore nasce da un fraintendimento della logica. Diciamola bene. In logica in effetti ordine e necessità vanno di pari passo. In logica ciò che è ordinato è anche necessario e viceversa. Pensate alla matematica che può essere intesa pur con qualche distinguo, con qualche postilla, come una disciplina che rientra in qualche misura nella logica. In matematica c'è un ordine, certo, ma c'è anche una necessità. 2 più 2 fa 4, non può fare una volta 5, una volta 12, una volta 1. 2 più 2 fa sempre solo 4. Cosa vuol dire? Che dati 2 addendi il risultato è 1, dati 2 moltiplicandi il risultato è 1, eccetera. Da delle cause deriva un solo necessario effetto. E questo dà un ordine a tutta la matematica, ovviamente, e la logica funziona alla stessa maniera. Se io metto insieme delle proposizioni secondo le regole della logica, il risultato è sempre univoco. Pensate alla logica aristotelica che abbiamo studiato mai parecchie parecchie puntate fa. Anche lì, se io metto insieme il silogismo in un certo modo, il risultato è sempre quello. Non è che una volta il silogismo è vero, una volta è falso. Se ho rispettato le regole, e le regole sono quelle corrette, il silogismo è vero. Punto. Non c'è altra possibilità. E questo ci fa capire che in logica, in effetti, ordine e necessità convivono, coincidono anche, direi. Ma la vita non è sempre logica, o meglio, la logica, lo se ne rende ben conto anche Leibniz, inquadra solo una parte delle possibilità di espressione, di comunicazione, di ragionamento umano. Perché? Perché in fondo, se io mi metto invece ad indagare la natura e guardo, ad esempio, come cade una mela come aveva fatto Newton secondo il celebre mito, ebbene, certo, la mela cade in un solo modo possibile davanti ai miei occhi se sono in un campo. Ma poniamo che il campo gravitazionale sia alterato, la mela cade in modo diverso. Poniamo che ci sia un vento, un tifone, la mela cade in modo diverso, no? Questo senza che per questo ci sia un disordine. Perché? Perché se c'è un tifone che si porta via la mela dal momento in cui si stacca dall'albero e non cade perpendicolarmente, ma viene trascinata via, ebbene, certo, questo è un esito diverso da quello previsto. Quindi vuol dire che ci sono più possibilità. Quindi siamo davanti alla contingenza. Ma comunque il fatto che la mela venga trascinata via dal vento è spiegabile, no? Perché io posso sommare la forza di gravità alle forze del vento che ci sono e sono presenti, e così riesco comunque a spiegarlo a tavolino, su quaderno, alla lavagna, e mostro che c'è un ordine anche in questo evento inatteso, no? Segno che la logica e la fisica funzionano in modo diverso. Per questo Leibniz arriva a distinguere due tipi di verità, perché entrambe queste discipline logica e fisica e scienze in generale usano delle affermazioni, delle frasi, no? Provano a dire delle verità. Però sono verità di natura diversa tra loro. Le verità della logica vengono chiamate da Leibniz verità di ragione, le verità della fisica, della scienza, eccetera, verità di fatto. Vediamo che riferenza c'è. Partiamo dalle verità di ragione. Queste verità, dice Leibniz, sono verità identiche. Cosa intende dire con questa espressione? Intende dire che sono verità che in fondo non fanno altro che esplicitare qualcosa che in verità è già sottinteso nel soggetto. Facciamo un esempio. Facciamo l'esempio il triangolo a tre lati. Questa è una frase tipica della geometria, della matematica, no? È una verità di ragione perché si basa sulla logica, non si basa sull'esperienza. E per dire che questa frase è vera, non devo andare a cercare triangoli in natura, anche perché non ne trovo più di tanto di triangoli in natura. Basta che mi metta alla lavagna o su un foglio, disegno un triangolo, mi accorgo che ha tre lati, ma lo so ancora prima di disegnarlo, no? Perché? Perché in fondo qual è la definizione di triangolo? Un corpo, un oggetto geometrico che ha tre lati e quindi necessariamente ha anche tre angoli. Già il nome lo esplicita, no? Tri-angolo vuol dire con tre angoli. Però la frase il triangolo a tre lati è vera, certo? È necessariamente vera nel senso che non può essere mai false, nessuna circostanza. Il triangolo, se è un triangolo, ha sempre tre lati e ha sempre tre angoli. Non può essere diverso da così? E però di fatto, se guardiamo bene, questa frase non mi dà informazioni nuove. Meglio, mi esplicita solo informazioni che già tutto sommato erano sottintese nel soggetto. Una volta che io dico la parola triangolo, c'è già nella sua definizione il fatto di avere tre angoli e di avere tre lati. Mi seguite? Quindi il fatto di dire triangolo a tre lati, triangolo a tre angoli, vabbè, vero, sicuramente vero, ma non dice nulla di più di quello che già sapevo. Difatti, quando Leibniz parla di verità identiche, noi oggi potremmo usare un'espressione diversa, potremmo parlare di tautologie. Cioè frasi sempre vere, indipendentemente dalle circostanze. Che il triangolo abbia tre lati, che il triangolo abbia tre angoli, è sempre vero ovunque e ovunque. Bene. Sono verità che non mi danno conoscenza del mondo. Penso che non ne andiate conto, io con queste frasi conosco la logica, conosco gli enti matematici, conosco le regole della geometria, se volete, della logica. Non conosco la realtà che mi sta attorno. Ok? Quindi sono inutili? No. Leibniz dice no, attenzione, sono utilissime. La matematica si basa tutto su queste verità identiche in fondo, no? Tutta la matematica non è altro che frasi di questo tipo. Si tratta solo di esplicitare. In fondo, quando io vi do una lunga espressione da risolvere, il risultato è già implicito nell'espressione. È che bisogna risolverla, quindi bisogna esplicitare tutti i passaggi e fare i conti. Però il risultato è già sottinteso. Magari è complicato tirarlo fuori, ma è già lì, è già dentro. Ok? Pertanto, dice Leibniz, queste verità di ragione non hanno nulla a che fare con la realtà. Non c'entrano niente con la realtà. E non derivano dall'esperienza. Io per dire che il triangolo ha tre lati, non devo andare a cercare triangoli. Per dire che una certa espressione dà un certo risultato, non devo andare, che so, a cercare i numeri in natura. Sono tutte cose che sono indipendenti dall'esperienza. Pertanto, dice Leibniz, dove stanno questi ambienti matematici? Dove stanno queste regole, la logica, eccetera? Se non sta in natura, dove sta? Beh, deve essere per forza qualcosa di innato, afferma. Di fatto, Leibniz sta cercando di recuperare l'innatismo platonico. Era stato Platone il primo in fondo a dire che le idee matematiche sono innate, no? Poi questa concezione che aveva retto l'urto degli anni per molti secoli era stata un po' in crisi poco prima di Leibniz, anzi quasi in contemporanea, con Locke. Se vi ricordate proprio Locke, aveva negato l'ipotesi dell'esistenza di idee innate, contraddicendo anche Cartesio, eccetera. Ha fatto una lunga critica, l'avevamo vista insieme. Adesso Leibniz dice, beh, in realtà secondo me è evidente invece che le idee matematiche sono innate, che le regole matematiche sono innate, le regole anche della logica, altrimenti non potremmo formulare queste verità di ragione. Capisco, dice Leibniz, le critiche di Locke. Ricordate che Locke diceva, ma se sono innate, dovrebbero averle anche i bambini, dovrebbero averle anche i pazzi, dovrebbero averle anche i selvaggi, e non mi pare. Leibniz però risponde, sì, sono innate. È che all'inizio sono oscure. È solo l'esperienza che permette di chiarire, rendere pienamente consapevoli queste idee innate. Quindi da bambini non capiamo bene come funziona la matematica, perché ancora abbiamo la mente un po' annebbiata, come dire. Poi, con l'insegnamento, con l'esercizio, queste idee che erano già dentro di noi e si chiariscono, diventano più chiare, più limpide, più facili da applicare. Insomma, riusciamo a far meglio. Però, ciò non toglie che siano innate, ovviamente. L'esercizio le rende più solide, più forti, più sicure, ma innate lo erano già prima. Pertanto, lui ritiene che le idee innate esistano. Cerca di superare la critica di Locke. Ma, fin qua, insomma, tutto sommato, niente di particolarmente nuovo, niente di particolarmente innovativo. Sono cose che, bene o male, hanno già state dette, queste che sta dicendo Leibniz. Certo, lui dice magari con termini nuovi, ma il concetto è sempre quello. Invece, il più interessante è quello che Leibniz prova a dire sulle verità di fatto. Cioè, l'altro tipo di verità. Ad esempio, che ne so, la mela cade dall'albero perpendicolarmente. Ecco, queste verità non si basano sui principi della logica. Le altre verità, quelle di ragione, in fondo, si basano sul principio di identità, sul principio di non contraddizione, quei principi che aveva già enunciato Aristotele, se vi ricordate, ancora nell'antica Atene. Le verità di fatto, invece, no. Perché il fatto che la mela cara non è logico, o meglio, non è più logico del fatto che la mela voli via, l'uno o l'altra non hanno nulla a che fare con la logica, in fondo. Queste verità di fatto, di fatti, non parlano di non contraddittorietà, ma di realtà. Cioè, in fondo, perché la mela che cade sarebbe logica, la mela che vola sarebbe contraddittoria. Non c'è contraddizione, in realtà. Un fatto può essere sempre diverso da come avviene, se ci pensiamo un attimo. E qui, Laminis ci fa un esempio molto famoso. Dice, prendete questa frase che trovate in ogni libro di storia. Cesare ha attraversato il Rubicone. Come ben sapete, è l'episodio famoso in cui Cesare dice, ale ajacta est, il dado è tratto, supera il Rubicone e marcia su Roma per la guerra civile, eccetera, prendere il potere. Ebbene, questa frase c'è in tutti i libri di storia, più o meno, magari formulata in maniera elevamente diversa, ma c'è. Cesare ha attraversato il Rubicone. Ora, questa frase è logica? In realtà non ha molto a che fare con la logica, dice Laminis. Perché? Perché il triangolo a tre lati è una frase logica. In che senso è logica? Nel senso che io non posso dire il contrario. Non posso dire il triangolo a quattro lati, a cinque lati, a sei lati, perché sarebbe una contraddizione. Il triangolo ha tre lati per forza, se no non sarebbe un triangolo. Se ha quattro lati è un'altra figura, è un rettangolo, è un quadrato, non è più un triangolo. Vi seguite? Ma se io invece dico, Cesare non ha attraversato il Rubicone, questa frase diventa illogica? La risposta che da Leibniz è no. Cioè sai quante persone non hanno mai attraversato il Rubicone? Cesare sappiamo che storicamente l'ha fatto, perché nel passato è avvenuto che Cesare abbia effettivamente attraversato il Rubicone. Ma se non l'avesse fatto, il mondo sarebbe stato illogico? Completamente contraddittorio? Beh, in realtà no, sarebbe andato avanti in maniera diversa. Sarebbero avvenuti fatti diversi, sicuramente. Però non sarebbero stati più o meno logici di quelli che sono avvenuti comunque, no? Il contrario nel mondo è sempre possibile. Io adesso sto registrando questo podcast, potevo farne meno, mettermi sul divano a sonnecchiare? Ma sì che potevo. Sarebbe stato un mondo illogico quello in cui io mi mettevo sul divano, un mondo contraddittorio? Ma no. Cosa volete che cambiasse? Non cambiava niente. Magari sarebbe stato un po' più pigro io. Ma la pigrizia non è una contraddizione, no? Come fare o non fare una cosa non è contraddittorio di per sé. I fatti non sono soggetti alle leggi della logica. I fatti avvengono o possono anche non avvenire. Nel mondo tanti fatti avvengono che potevano non avvenire. E a ogni fatto si presenta in più possibilità. Per cui ognuno di noi davanti alle varie possibilità fa delle scelte che realizzano una eventualità e non realizzano le altre. Ma non per questo le altre, quelle scartate, quelle non realizzate, erano meno logiche. La logica non ha nulla a che vedere con i fatti. Allora, traiamo qualche conclusione di questo discorso perché è bene che sia ben chiaro in testa e vediamo le differenze tra questi due tipi di verità. Le verità di ragione e le verità di fatto. Non l'altro abbiamo appunto le verità di ragione. Sono verità logiche, potremmo anche dirla così per far prima, riguardano il mondo della logica ma non riguardano la realtà dei fatti, non riguardano il mondo. È come se stessero in un altro piano di realtà, in un altro universo, quello della logica. Platone direbbe quello delle idee. Qui queste verità si basano sul principio di identità e sul principio di non contraddizione. Cosa vuol dire? Che di queste verità non è possibile pensare al contrario. Esempio famosissimo, il triangolo ha tre lati. Possibile pensare a una frase che dica il contrario di questa frase qua? Ad esempio che il triangolo ha cinque lati? No che non è possibile. O meglio possiamo farlo ma cadiamo in contraddizione. Ok? Quindi il contrario di una verità di ragione è contraddittorio. Questo implica che queste verità di ragione siano sempre vere. Il che vuol dire che sono identiche verità identiche, cioè non aggiungono in realtà nessuna informazione. Esplicitano solamente quello che era già sottinteso nel soggetto. Vanno bene per la matematica, vanno bene per la logica e più o meno basta. Dall'altro lato ci sono le verità di fatto. Queste verità sono frasi che affermano qualcosa di vero, ma qualcosa di vero del mondo, della realtà, di ciò che ci circonda. Esempio, Cesare ha passato il Rubicone. Questa frase è vera? Sì, perché storicamente è avvenuto questo. Le cose sarebbero potute andare diversamente, cioè una frase diversa da questa, in contraddizione con questa, sarebbe illogica? Ad esempio, Cesare non ha passato il Rubicone? No che non sarebbe illogica, sarebbe magari falsa perché nei fatti è venuto il contrario. Ma non illogica. Cesare avrebbe potuto farlo diversamente. Non a caso, guardate, nella letteratura è piena di scaffali di librerie o i cataloghi dei prodotti di streaming di film o libri che immaginano realtà alternative in cui Tizio ha fatto una cosa diversa o Caio ne ha fatto un'altra diversa. Perché riescono a immaginare tutto questo? Perché non è affatto contraddittorio? Perché è possibile immaginarlo? Perché Cesare avrebbe potuto fare una scelta diversa? Almeno questo è quello che ci sembra di poter dire guardando i fatti, no? Questo cosa implica? Che queste verità di fatto non sono verità identiche, come le altre. Non ci dicono cose che già in fondo sapevamo, ci dicono cose che non sapevamo, perché in questo caso il predicato aggiunge delle informazioni. Se io non conosco Cesare e apro un libro di storia, sapere che Cesare ha passato il Rubicone mi dà un'informazione che prima non avevo e non potevo avere, non potevo immaginare, sapendo il nome Cesare se questo aveva fatto o non fatto le cose che poi ha realmente fatto. Forse non sapeva neppure Cesare prima di farlo, quindi mi dà informazioni nuove. Poteva andare diversamente? Certo, quando io so com'è andata imparo qualcosa che non sapevo proprio perché c'erano tante possibilità. Nel caso della logica c'è l'unica possibilità e quindi vederlo scritto o no cambia poco. Ma allora, se le verità di ragione si basano sul principio di identità e di non contraddizione, su cosa si basano le verità di fatto, quelle che possono anche essere negate? Quelle che possono andare anche in modo diverso? Beh, Leibniz dice, si basano sul principio di ragione sufficiente. Cosa vuol dire il principio di ragione sufficiente? Vuol dire che, dato un fatto, io posso trovare la ragione che spiega come mai è venuto quel fatto e non tutte le altre possibilità. Esempio, Cesare è passato il rubicone. Bene, io posso, studiando la storia, studiando la figura di Cesare, studiando quello che è avvenuto, trovare la ragione per cui Cesare l'ha fatto. La ragione sufficiente, quella ragione che serve a spiegare come mai Cesare ha fatto quella scelta e non ne ha fatto le altre scelte che erano comunque possibili, ma che poi lui alla fine non ha fatto. Ok? Cosa vuol dire? Che il contrario è sempre possibile, che questo principio di ragione sufficiente non è un principio forte come quello di identità, di non contraddizione. Sembra, almeno per ora, più debole. Dico per ora perché su questi temi ritorneremo. Oggi, come vedete, siamo ormai in chiusura di puntata, ma il discorso non è affatto finito. Mi premeva intanto distinguervi queste due verità, perché sono diverse, si comportano in modo diverso, eccetera. Ma vedremo che le cose sono più complicate di come sembrano a prima vista. Tanto capiamo la cosa semplice e poi vediamo come Leibniz, la prossima volta, tornerà su questi temi, creandoci ulteriori problemi da capire, ma in realtà stimolando ulteriormente la nostra riflessione. Per il momento, visto il minutaggio, infatti, ci fermiamo qui. Vi ricordo alcune cose prima di salutarci. Il podcast lo trovate su tante piattaforme, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Heart Radio, Spreaker Audible e YouTube, ma questo stesso podcast ha un podcast gemello che si chiama Dentro alla Storia, sempre su quelle stesse piattaforme, se lo volete provare. Poi vi ricordo che se cercate anche spiegazioni di epoche diverse, c'è un canale YouTube molto fornito, ci sono più di 1500 video al momento in cui registro, lo trovate appunto su YouTube, cercandomi come Ermanno Ferretti oppure come Scripp. Poi vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, non perdervi le puntate, le iniziative, tante cose che facciamo settimana dopo settimana, potete seguirmi se volete sui social network, cioè su Facebook, su Twitter oppure su Instagram, lì mi trovate sempre con il nickname di Scripp, oppure potete, se volete, abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale. È una mail molto corposa che mando una volta a settimana dove parlo di libri, di film sempre legati alla storia e alla filosofia, di attualità, di varie cose, insomma, e poi anche dei video di podcast che ho fatto, così potete rimanere sempre aggiornati. È gratis, basta andare all'inizio internet ermannoferretti.it e lì si può lasciare la propria email. Ultimissima cosa, vi ricordo che era poco uscito il mio ultimo libro, si intitola Anche Socrate, qualche dubbio ce l'aveva, un libro di filosofia di livello abbastanza divulgativo per chiunque anche non abbia specifica formazione filosofica ma sia appassionato della disciplina, ed è un libro che cerca di riprendere alcune riflessioni di filosofi soprattutto scettici, più o meno scettici come Socrate, come Hume, come Montaigne, come Popper, come altri ancora, e declinarli nel nostro tempo. Il nostro tempo è un tempo particolare, bisogna imparare a capirlo, ecco, penso che alcuni filosofi abbiano qualcosa da insegnarci e provo a dirvi perché. Questo lo trovate in libreria, sia fisica che digitale, in formato cartaceo e digitale. Ripeto il titolo, Anche Socrate, qualche dubbio ce l'aveva, Cairo, editore, autore ovviamente, ermannoferretti. Basto detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di Leibniz, il percorso è lungo, l'abbiamo appena cominciato e poi per tante altre lezioni di filosofia. Ciao, alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.